La scuola oltre il coronavirus. Si conferma l'istituto d'avanguardia del Majorana di Brindisi che in collegamento streaming con le case degli studenti di Vo e Euganeo, comune veneto in isolamento a causa del coronavirus e Codogno, hanno portato il fascino della chimica spiegata dagli studenti brindisini ai loro colleghi veneti. Un momento di solidarietà, unione e istruzione voluto dal dirigente scolastico ed ex sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano per un primo appuntamento per questa classe virtuale estesa che mette al centro la formazione fatta in modo innovativo ed anche divertente. E' stato soprattutto questo lo spirito dell'iniziativa, lanciare un grande messaggio di solidarietà agli alunni, alle scuole, ai colleghi che sono in zona rossa. Quindi ci siamo collegati con la scuola di Vo, un istituto comprensivo di Vo e un istituto comprensivo di Codogno. I nostri ragazzi hanno in maniera divertente intrattenuto i loro colleghi studenti di qualche anno più piccolo con esperimenti carini, simpatici che hanno appunto a base la chimica. Un'occasione comunque anche per formare, insegnare qualcosa in maniera leggera perché comunque tutto passa dalla formazione. Esattamente, abbiamo volutamente utilizzato un linguaggio molto semplice, divulgativo per far comprendere ai ragazzi e per soprattutto, ripeto, al di là del valore contenutistico degli esperimenti che abbiamo fatto vedere, abbiamo voluto mostrare un grande momento di solidarietà. E' una prima iniziativa, sicuramente ne seguiranno delle altre.